Ehi, a un, a due, a un, due, tre e quattro Mi hanno detto che un Bonzo, un prete buddista S'è bruciato sto Bonzo Si è cosparso di benzina nella piazza principale E poi è fuori, si è dato fuoco da sé, perché vuole la libertà, la libertà, de brisa, a de brisa per pute e capa, e capa per la ora, e la ora per pute e brisa. Mi han detto che in Fiandra, in Fiandra, dov'è? Nel Belgio, ha saltata per aria, una miniera, aleccarbù, son finiti i bruciacchiati, aneriti, asfissiati dal grisù, niente, più de' sessanta terù. Son finiti all'aldilà, e han finito i tribula, i tribula per pute e capa, e de capa per la ora, i tribula per pute e capa, e la ora, e la ora, i tribula per pute e spissiati. Io ho la macchina, ho un bel mestiere, e non faccio il minatore, ho la mutua, ho la casa al terzo piano, e ho i servizi col bidet. Sì, cosa interessa a me? Della mia libertà, libertà, de brisa, de brisa per pute e capa, e capa de la ora, e la ora per tribula, e tribula per campare, e capa per pute e spissiati. E la ora, e la ora, e la ora per pute e spissiati. Mi han detto iersera, iersera, cos'è? Il dottor Birachi, chi l'è? Il caporeparto, ah, che son licenziato in tronco. E per via della flessione, del mercato principale, e poi... Che cosa è successo? Piango! Desinteressa anche a me, ed è la mia libertà, libertà, de brisa, de brisa per la ora, e la ora per pute e capa, e capa per tribula, e tribula. Non c'ho più la macchina, son disoccupato, la mia donna mi ha lasciato, senza mutua, senza casa, non c'ho più neanche il bidet. Sono qui, peggio di un bonzo, non ho neanche la benzina per bruciare. E allora, e la ora per pute e brisa, e brisa per pute e capa, e sfiscia, e rispiscia, e rivoluzione, con questione. E allora rivoluzione, no? L'hai detto tu. Concessione, concessione, sì? No. Rivoluzione, 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 rivoluzione. Un due, 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 un Grazie.